Il cane, il gallo e la volpe. Un giorno un cane e un gallo fecero una passeggiata nel bosco. Camminarono fino a quando giunta la sera decisero di cercare un posto per dormire. Il cane si accovacciò vicino alle radici di un grande albero e il gallo dormì su un ramo. All'alba del giorno successivo il gallo come di consueto cantò. Una volpe che viveva lì vicino udì il gallo cantare e accorse subito pensando che avrebbe potuto mangiarselo per colazione. Quando vide il gallo sull'albero gli venne un'idea. In modo dolce disse al gallo scendi dall'albero caro gallo e diventiamo amici. Ma il gallo scaltro rispose con un filo di voce scenderò sì ma prima dovrei svegliare il mio amico che si è addormentato a piedi dell'albero. La volpe la consentì ma il cane si arrabbiò per essere stato svegliato e abbaio forte la volpe che si spaventò e fuggì. Così il gallo e il cane si incamminarono in pace per la loro strada alla ricerca di qualcosa per colazione. L'insegnamento è che spesso l'astuzia risolve più della forza. Ciao bambini!